Devi muoverti in città, lo vuoi fare rispettando l'ambiente, ma una city car non fa il caso tuo perché hai bisogno di spazio? Ho la risposta per te! Allora, questa Toyota Auris nell'allestimento Black Edition fa il caso tuo. Un modello con motore da 1800 di cilindrata, 136 cavalli, mettendo assieme il motore termico e il motore elettrico, perché si tratta di un'auto con alimentazione ibrida. Veicolo aziendale in colore Blue Rattics, bellissima questa carrozzeria, sicuramente non passerà osservata nel traffico cittadino. E poi è garantita e certificata perché ha superato il test dei 150 punti di controllo eseguito dai nostri automotive experts. Davvero particolare, si addice anche a un veicolo con alimentazione ibrida come questo. Partiamo dal frontale, abbiamo dei dettagli bicolor, delle cromature nel logo e ci sorprende questa Toyota Auris con una struttura aerodinamica. Guardate gli specchietti retrovisori, guardate il tettuccio, entrambi in colore nero lucido, bellissimi. Essi abbinano perfettamente ai vetri posteriori e all'18 che sono oscurati. Cromature anche sul laterale con i cerchi in lega bicolor da 17 pollici, la parte bassa della finestratura molto molto accattivante. Per non parlare delle linee decise del lato posteriore di questo veicolo che la rendono semplicissima da parcheggiare. Ma perché scelgo di acquistare questo veicolo Toyota Auris? Perché si tratta di un veicolo ibrido che mi permette di entrare nelle ZTL di tutta Italia, mi permette di entrare in area C a Milano senza nessun problema. E soprattutto perché in questo modo sono eco-friendly, tantissima roba. Ma non solo, volete sapere i consumi di questo veicolo? Sono incredibili, i consumi dichiarati ci indicano che percorre 25,6 km con un litro. Davvero un veicolo adatto a chi vuole rispettare l'ambiente. Come abbiamo detto all'inizio, quest'auto l'acquisti se ti devi muovere in città, vuoi rispettare l'ambiente e hai bisogno di spazio. Perché non si tratta di una classica city car, ma di una berlina. E quindi abbiamo 360 litri di capienza nel bagagliaio. Quindi anche per i viaggi fuori città, quando vorrete partire per le vostre vacanze, non avrete problemi perché ci stanno tutte le valigie per le necessità di una piccola famiglia. In più, se lo spazio non vi dovesse bastare, no problem, no stress, perché i sedili posteriori sono abbattibili e frazionabili 60-40. Non male anche lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori. Top, top, top. Si viaggerà sicuramente comodi qua dentro. A viaggiare comodo poi è anche il guidatore che viaggia pensando di aver risparmiato sul carburante e soprattutto di aver rispettato il nostro pianeta. E quindi, caro guidatore, ti fai coccolare da questo sedile in alcantara con dettagli in tessuto molto confortevole. Guarda quanto è morbido. La plancia è lineare dritta, quindi c'è tantissimo spazio al suo interno, ma comunque non ne ruba al passeggero che si trova nel lato anteriore. E guardate lo schermo dell'infotainment. Fra un attimo arriviamo qua. Volante in similpelle soft touch dotato di tantissimi comandi, tra cui quello perfetto per gli spostamenti in città, cruise control. Sistema d'avviamento start and stop. Accendiamo. Non sentite praticamente alcun rumore perché si tratta di un veicolo ibrido. So che lo sapevate già, ma ci tenevo a ribadirlo perché è molto importante. Guardate, nel lato sinistro notate charge, eco, power, che sono tutte le indicazioni per la batteria del motore elettrico. E in mezzo invece notiamo che ha percorso solo 28.700 chilometri. Un'auto tecnologica come un'auto ibrida può solo avere un sistema di infotainment di altissima qualità. Abbiamo multimedia, abbiamo la connessione bluetooth allo smartphone, poi tutte le informazioni sullo stato del veicolo, le impostazioni di setup, più sotto il clima automatico e bizona, tanta tanta roba. Ma guardate, qua sotto abbiamo anche tutti i collegamenti multimediali con USB, AUX e presa da 12 volt. Adatto alla città è anche il cambio che è automatico, quindi nessun problema di stress nel traffico ed è azionabile da questa pratica manovellina. In più, inserendo la retromarcia, attivo la retrocamera che è davvero fondamentale per parcheggiare in tutta sicurezza. Quindi se ti devi muovere in città e vuoi rispettare l'ambiente, non aspettare altro. Corri sul sito rattiauto.com, puoi bloccare questa meravigliosa Auris con soli 100 euro senza impegno e richiedere una video call con un nostro sales manager. Poi la puoi ricevere comodamente a casa tua con igienizzazione, garanzia europea e diritto di recesso a 14 giorni. Infine ti ricordo di seguirci su tutti i nostri social. A me a questo punto non resta che dirti al prossimo video, alla prossima auto. Grazie per la visione!